Sono qui per servire ancora Serapide, se posso. Ho qualcosa per te. Delle guardie riscuotono cibo con l'inganno in nome di Serapide. Chiedono un doppio tributo e ne intascano la metà. Poi lo portano all'arsenale e lo dividono con delle altre guardie. La gente muore di fame e sarà sempre peggio. Non preoccuparti, restituirò il cibo alla gente. Ti aspetterò al molo in mezzo alla folla. Noi, non preoccuparti. Noi, non preoccuparti. Zuhai! Guardate! Oh, un paquetto, un paquetto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.